Non guardare la pista a fare perché questo oggi è una sorpresa, lo so, lo so, lo so, è una Lucky Race, non ti piacciono i Lucky Block, ti incastri nel muro perché è ancora quel bug, lo so che per mille motivi non ti piacciono, ma ho trovato una soluzione per farti di piacere. Non credo, Steph. Posso venire nella tua zona un attimo? Sì. Ok, ok. Dipende, cosa devi fare. Allora, dato che i suoi Lucky Block non ti piacciono, ho pensato, metto qualcosa che adori tantissimo, che proprio ami alla follia, che proprio di qualcosa... Sto già vedendo, Steph. Che ti piacciono tantissimo. Ho visto un po' con la coda dell'occhio perché giustamente ti sto guardando. Sere? Ho una domanda. Sì, dimmi. Perché? Perché così adesso li ami. Una cosa che hai sempre odiato finalmente ti piace, giusto? No, Steph. Hai unito due cose che odio, quindi oggi probabilmente si creerà un buco nero, Steph. Ma guarda che bella faccina. Poi c'è un particolare, non te la faccio da scemo. C'è da dirlo. Vabbè che ce l'ho sempre. Ok. Steph, non posso giocare. Perché? Che succede, Pere? Pere, stai bene? Non ce la posso fare, Steph. Raga, mi è morta. Cioè io lo posso giocare vedendo con la tua faccia da scemo tutto il tempo, scusami. Sì, che puoi, Pere? Su, concentrata. Aspetta, Steph. Cioè mi hai fatto piangere dalle risate letteralmente. Ok. Non è possibile sta roba. Ha funzionato. Ha funzionato. Andiamo, andiamo, andiamo. Credo che se premo questo timer... No, non mettere timer. E boh, sembrava carino. Go! Ok. Andiamo. Mi ha fatto uno scatto che... Ma, Steph, mi stai bloccando il gioco. Che hai fatto? Pensavo di essere crashato. Eh, pure io. Vado, hai già aperto il primo. Sì. Vediamo cosa... Però credo che... Tutto bene, Steph, no? Tutto bene. Prego. No, Steph. Disastro. Disastro. Non abbiamo neanche iniziato. Non vanno troppo male, eh. Via. Ci sono i creeper. Via, via. No, no, no. Non venite ancora da me. Cari di sotto. Cari di sotto. Cari di sotto. Quanti ne mancano? Ok, uno. Non fare sprave della tua base. Eh, Steph, che devo fare? Mi arriva addosso. Ok. Ok. Ok, io sto bene. Ok. Allora, Lucky Block è numero due. Fer è sempre fortunatissima. Ok. Allora, qui c'è un Lucky Block con la tua faccia. Mi tocca aprirlo perché lo trovo. Che pendino che sono. Oh, cavolo. Fer ne hai anche sopra la testa di Lucky Block. Endless Spires Horseman. Non è un buon segno. No, per niente. Vai via. Dobbiamo farlo cadere di sotto. Ah, ma allora è il vizio di questi Lucky Block. Capisco. Capisco. Vai via. Mi fa molto piacere che questi creeper ci dovranno capitare ogni mezzo secondo. Ne sono proprio felicissimo. Ok. Questo è diverso. È qualcosa di utile. Cosa mi è caduto in testa, Steph? Perché, cioè, sto soffocando ma non ho capito che mi è caduto in testa. Questi blocchi, Fer? Eh, probabilmente. Ok. Ok. Piacevoli? Sì, tantissime. Meno male, meno male. Allora, buttiamo questo. Buttiamo questi. Buttiamo l'elmetto perché mi piace avere questa faccia. E andiamo avanti. E quel mob è forte alla fine? Eh, non lo so. Non ti ha picchiato? Eh, allora, si è avvicinato. Io sono scappata. Gli ho dato un colpo. Lui è riscappato. Ok, ok. Quindi è un fifone. Esatto. Opla. Ok. Ok, dai, è andata abbastanza bene. Come sono gli altri tuoi lucky blue? Quanti ne devo aprire ancora? Cioè, solo questo. Ma povero. Ok, ok. Basta. Precati, si sta billando lì. Uh, non lo so. È pure un fiume. Oh, qualcosa di molto strano. Guardami, Steph. Eh, ho notato. Hai visto la mia faccia? Ma ti vedi anche tu così come ti vedo io? No, sono così. Ah, ah. Sono più carino. No, io ti vedo buggatissimo. Ti vedo con la skin di Alex totalmente. Ok. Non so perché. Che bello. Ciao, Fede. Ti piace il mio martello. Sì, è forza. Fede. No, tra o meno. Ti guarda, dopo avermi fatto questo. E non provare a farli con la mia faccia, guarda, eh. Se provi a chiedere i like per farli. Cosa hai combinato, Steph? Non lo so perché ogni tanto muore il gioco. Non lo so. Per farli con la mia faccia, tu uccido. Ecco, finito. Consolini, lasciate un sacco di like se si mette il lucky block di ferre. Forza. Ok, un sacco di fiorellini. Quindi però la sto andando abbastanza bene. Pozzo dei desideri? Ok. Un po' di utensili. Cos'è caduto dal cielo, raga? Che è sta roba? Shoot. Cosa? Shooting star. Ok. Ah, sta decadendo. Questo è qualcosa di più interessante. Ok. Uh, bella questa. Armatura in diamond. No. Ottimo. Queste schifezze non le voglio lutare, vi prego. Ecco, ne ho lutato la metà. Di nuovo armatura in diamond, però questa volta con gli enchant, Steph. Ma non mi faccio nulla, caro mio. Allora, io sto continuando ad andare avanti. Red Dragon Dungeon. Però non sono così terribili i miei lucky block, no? Mi è capitato, allora, in un lucky block. Un tuo lucky block che ho scritto Red Dragon Dungeon. Lo apro. Ho fatto apparire un dungeon. Ho fatto apparire un dungeon, Steph. Però è la testa di un drago. Non è stato... Si chiamava Red Dragon, infatti. E cosa c'è dentro? Non lo so. Non ho avuto coraggio di entrare. Ma no. Loot. Acqua. E l'acqua dove porta? Lo sto visitando. Che bella sta roba. Vedimi, i lucky blocks sono proprio belli. No, si affoga, basta. Stavo per morire. Mi dispiace. Spero ce l'asse qualcosa di bello. Però un buffo è velocissimo. Perché corro così tanto? Opla, opla, opla. Solto! Opla, opla. Incredibile. Allora, ho quasi l'inventario pieno e non mi piace come cosa, perché se poi trovo una roba bella, la perdo. Quindi andrò nella linea di qualcun altro a buttare un po' di oggetti. Ma che c'è lì sopra? Stanno succedendo cose brutte da me. Per favore! Per favore! Praticamente ho dei buzzi che creano fuoco, il che crea un po' di problemi vari. Io li uccido. Ma c'è qualcuno sopra il minecart e volevo salirci io! Cavolo, sta roba è fortissimo, neanche il mio martello gli fa qualcosa. Dov'è? Ce l'ho fatta? Che faccio? Chi c'è sopra il mio minecart? Ah, basta. Basta, me ne vado. Basta! Ecco chi c'è, era lui. Era lui, come ha rotto il minecart è sceso, raga. Era salito al posto mio nel mio minecart. Ok. Che andava in giro. Ok. Continua a scappare. Mucche distrette lo zombie! Secco. Senza animazioni. Nero e son morto. Così. Comunque è pieno di costruzioni, è molto carino. I miei lucky blocks sono proprio belli. Allegri, felici. Non succede mai nessuna cosa brutta. Cioè, sono proprio piacevoli. Sì. Ho sentito, certo. Ho sentito. Proprio. Sì. Perfetti. Ti devo far vedere una cosa. No, no, io vado. Avanti. Ho fatto una granata, fammela tirare. L'ho tirata nell'altra corsia. Bella! Oh, cavolo. C'ho davvero delle granate in mano, questa. Sì. Ok. Lucky Kitty. Vai, seguimi, Lucky Kitty. E tu le tiri e diventa un blocco di TNT che poi esplode, capito? Opla. No, buio, no. No, no, no. Roba brutta? No, 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 sì. Ok. Mi dispiace. Adesso prendo danno, non so perché. Spiro il dungeon! Sto schiacciando col martello i silverfish e sembra acchiappa la talpa, Steph. Totalmente. Qua prendo pochissimo danno. Ho un'armatura fortissima. Cioè, ma davvero ho rotto un Lucky Block e ho creato un dungeon? Dove siete, maledetti? Vi sento che mi state ancora colpendo. Una chiave? Raga, sono i Lucky Block più belli del mondo. Ok, tutto a posto. Dimmi che non sono i Lucky Block più fighi che abbiamo mai fatto. Beh, di certo c'è tanta varietà, quello sì. Fede, sono in un dungeon spiral bellissimo. Ma perché sei entrato in un dungeon? È perché l'ho creato, quindi lo sto visitando. E ho trovato una chiave d'oro, mele d'oro, e adesso ho una chiave d'oro che non so cosa serve. Deduco che potrebbe permettermi di aprire un forziere finale strabello. Oh, cavolo. Ho capito, però. Cioè, io ringrazio di avere un martello forte e di prendere poco danno, Steph, perché qua sarebbe il delirio, altro che belli. Basta, mi state salendo. Ma, raga, ma secondo me finisce questo dungeon? No, perché ogni volta... Ah, ok, questa volta è notta un po' meglio. Ma... No, non voglio scendere. Ok, per fortuna riesco a uccidere buona parte delle cose brutte che mi capitano. Questa è una cosa buona. Di nuovo. Ah, devo mangiare... Tu che convini, dove sei? Dove sei finito? È un dungeon infinito. Ah, ok. Esci fuori, basta. Che cosa sta succedendo? Ok, dei blocchetti strani. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio, Steph. Che è successo? C'è un mob con la mia faccia. Che fa una musichetta strana. Steph, ho trovato la motosega. Cosa? Sì. Ma dove stai trovando queste robe belle? Boh, te la volevo far vedere, davvero bella. Io, moglia, basta. Ma sei di nuovo all'inizio? Sì, sono morto. È che noia, vabbè, quando ci ricontriamo te la faccio vedere. Va bene, amica mia. Baby Bob. No, Baby Bob. Prima o poi torneremo ad incontrarci. Ho trovato Baby Bob. Ho qualche pozione bella. Tipo questa. Steph, anche Baby Bob mi ha dato la sua arma bellissima. Quindi adesso io ho un'altra arma ancora più bella. Oh, questa sicca è bella. Anche a me la vita va bene. Questa sicca è bella. Scusate, raga, lo so, è fastidioso. Dove dire che i tuoi lucky bloccano tante armi belle, Steph. Lo so, lo so, ragazzi, è fastidioso, vi chiedo perdono. Povero, Steph. Ma almeno così lo vediamo meno. No, è peggio. Aspetta, 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 aspetta. Spiral Demolisher. Che bella la vita. Spiral Demolisher. Vedi che continui a trovare armi. Eh, lo so. Io ho solo cose brutte. Tre meriti. Armi, cose brutte. Armi, cose brutte. Tre meriti, riesce da dirlo. È finita? Sì. Ok. Sei a posto? Sì, mi è appena passata la nausea. Ok. Brutta giornata oggi. Eh, ho notato. Troppe curve in macchina. Ho notato. Uh. Uh. Qualcuno ha fatto un bruttissimo errore qua. Qualcuno ha fatto un bruttissimo errore qua. Ok, qua non mi serve nulla. Quel qualcuno si chiama Ferri Nikki. Cosa vuoi da me? Hai lasciato un sacco di bella roba. No, non rubarmele, perché io sono piena. Ma, mi volevi attaccare, maledetto. Ho trovato una a me che mi voleva attaccare. Una a te? Sì. Ferri Nikki. Era la mia skin, Ferri Nikki più. Eh, mi voleva attaccare. Dove sei finito, Steph? Che vuoi? Tu volevo far vedere le armi. Vabbè, te le farò vedere quando morirai. Vai, tranquilla, sono arrivato. Spiral Lucky Staff, vai. A posto. Un'altra arma bellissima. Un'altra arma bellissima. Opla, 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 opla. Questa è grande oppure no? Ah, che rondicella. Come ho fatto già a raggiungerti con te che sei sempre in vita, vorrei capirlo. Guarda, Steph. Perché ti stavo aspettando. Guarda. Vedi? La motosega. E poi anche questa. Ok. La baby Bob. Questo è il figlio di Bob, ho ucciso pure lui. E poi? Ma la data. Poi questa. Ok. E' carina. E poi questa. Ok. Un arsenale. Poi non c'è. Io invece grazie a te ho queste. Dai, Steph. Tanto non mi uccidi, quindi non fare tanto lo spiritoso. Eh, ma tu me le regate. Io, grazie a te. Shooting Star. Grazie. Ahà. Ho questi. Oh, cavolo. Ok. Sono salvo. Allora. Andiamo avanti. Non era che anche a te, ma ce li aveva basta. No, il vetro. Non mi schiacciare. Con questo martello è bellissimo. Distrugge anche tutti i blocchi che io ho di fronte. Quindi se rimango intrappolata in qualcosa, lui me lo distrugge subito. Ok. Non mi serve. Sono già piena di armatura. Vado dritta alla vittoria adesso. Mi arrendo. Mentre Steph muore vado dritta alla vittoria. Non mi interessa più nulla. Io mi arrendo. No, non ti puoi arrendere, Steph. Sono i tuoi lacchi. Eh, oh. Mi hanno battuto. Guarda, neanche i cactus mi fanno nulla e mi possono fermare, Steph. Niente mi può fermare. A me è tutto. Vado, vado. Non c'ho armor. Dritta. Non c'ho armi. Non c'ho felicità. Non c'è gioia. Esplodi. Solo robe tristi e brutte che mi capitano perché c'ho sfiga. Ho fatto una torre di mostri, Steph. Aiuto. Questo è troppo. Ok. 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 Per fortuna li sto uccidando. Cioè, con un colpo stende qualsiasi mostro sta qua. Sì. Sta distruggendo letteralmente un pilastro di mostri. Enorme. Ehi, Gasparo, non ci arriva, accidenti. Aspetta, ho la staffa, la staffa. Stanno arrivando a palle di fuoco mentre. Ce la fai? Con la staffa. Ma non mi sembra che gli faccio così tanto danno. C'è troppa gente. Aiuto. Sento rumori strani. Ok, ucciso. Gli uccisi tutti? No, ne mancano ancora. Eh? Aiuto. No, ce l'hanno fatto uccidermi. Cavolo, erano davvero troppi. Oh, mio Dio. Ho vinto l'Oscar. Che ti è successo? Ah, una roba che... Anche se te la raccontassi non ci credessi. Dai, dimmi. Stavo soffocando in questa sabbia. Incastrato, non potevo fare nulla. Ok. Ho tirato una di quelle tniti granate. Sono esploso, sono saltato e sono uscito fuori con mezzo quale. Ma che fortuna. Non è fortuna. Sì, che fortuna. E skill. Cavolo, io ero avvantissima e mi deve capitare quella pila di mochi. No, vieni, vieni, vieni. Non li avevo neanche visti. È assurdo. Allora. Perché mi sono capitati? Allora. Cavolo, ero messo benissimo. Pere, dove sei? Sono indietrissimo. Forza, arriva. Muoviti. Dove passo? Da qui? È tutto rotto. No, lì c'è un buco enorme. Come faccio? Basta, sti blocchi che mi... Pere, in difficoltà. Mi incastrano. Ok, ce l'ho fatta. Non lo so, Steph, dove sei? Io ne ho ancora... Ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo. Stai arrivando, stai arrivando. Brava, continua così. Dai, cosa vuoi fare? Eh, ti faccio visitare. Vieni, vieni. No, non rompere. Non puoi aver paura, non c'ho nulla. Ok? Hai preso la mia testa? Eh? È la mia faccia. Sì, vabbè, vieni, seguimi. Non è quello. Vieni, vieni con me, con me, con me. Forza. Che vuoi? Vieni qua, vieni. Dai, non voglio fare cose strane, Steph. Dove sei finita? Perché non posso scendere? Perché? Aspetta. Sei buggata? Il martello è troppo grande? Non lo so. Aspetta, aspetta. Trova il modo, cara. Ti aspetto qua. Posso distruggere i blocchi, quindi. Ce la fai? Più o meno. Non so perché mi fa incastrare. No, smettila. Puoi solo salire. Perché mi fa il contrario? Non lo so, aspetta. Aspetta, aspetta, sono rotto tutto, vai. Ok, ok. Allora, seguimi. Questo è il mio dungeon. Che si è formato in era i mob, tanto sono scarsi. Ok. Ok. E quindi che mi devi fare? Qua sotto? Sono caduta sotto. Risali. Aspetta che c'è una scarpa. Cosa c'è qui sotto? Aspetta. Sto andando. Vai, 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 vai. No, non posso, devo distruggere tutto. Ok. Occhio. Se mi colpisci mi da una zara che mi sveglio dopo domani. Lo so. Ok, vado. C'è qualcuno ancora? No. Davvero? Non c'è più quello che la faccia. No. Ma perché? Se ne andavo. Te lo volevo presentare. Aspetta, risali? Non posso. Mi sto appiccicando a tutti i blocchi, ok? Cerco di farlo ricapitare, vediamo. Oh, cavolo. Ti aiuto io, Steph, togliti. Ok. Guarda. Allora. Non c'è più nessuna, c'è più nessuna. Aspetta, distruggiamo anche questi robili. Ma può andare solo roba brutta in questo posto? Cioè, non mi sembra possibile. Devo distruggere anche gli spawner, Steph, con sto martello. Ok, distruggi, distruggi. È multiuso. Ogni volta che capita un lucky block brutto, praticamente capita che si ingrandisce il dungeon. No, sono cascata di sotto. E non muoio, che noia. Quindi è un dungeon infinito. È una presenza in giro. È una presenza in giro da te. È proprio infinito. Ah, chest is locked quando fa questo rumore. Quindi io posso usare la mia chiave. Pieno di roba bella. Ok, posso andare, Steph, perché tu sei qua due ore, ma io... No, abbiamo finito tanto. Come abbiamo finito? Sì, sì, io mi sono ritirato. No, Steph, non rompere. Non ti puoi ritirare. Come si esce da qui, accidentale? E tanto, rimaniamo a covere. No, io me ne vado a finire la mia corsa, Steph. Non sono una fallita come te, che vuoi? Dai, Steph, che hai fatto? Eh, oh, è capitato. Stai bene? Sei soddisfatto? Eh, mica l'ho fatta apposta. Perché l'hai fatta apposta. No! Perché non vuoi finire la gara. Cioè, ho detto a Lucky Block, ok, capita, tieniti. Esatto. Che so io. Esatto. Se avessi questo controllo... Sono i tuoi, quindi puoi. Ti avrei già sconfitta, cara. Dove sono? Non lo so. Non riesco a risalire dalla mia corsa. Ok, comunque sì, posso aprire quelli, è così. Siamo proprio sotto la mappa. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Allora. Vabbè. Che sfiga c'ho. Ma che serve fare sto dungeon? Porta solo Iella. Non lo so. Vediamo quanto mancava per fine la gara. Tantissimo. Dai, Steph. Dai. Qua sotto bei video. Mettila. Quando ci saranno i Lucky Block di ferie, magari avrò fortuna io e fortuna lei. Andrà al contrario, non lo spero. A me stava andando benissimo. Per una volta che volevo continuare la gara, non me la fai continuare. Fai schifo. No, sei penoso, Steph. Canale, campanellina e ci vediamo in un prossimo video. No, sei terribile. Ciao.